Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti a tutti a questa meditazione domenicale, questo ritiro mensile. Iniziamo la meditazione della giornata tramite una lettura dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, versetti da 1. Infatti, il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale uscì da buon mattino ad ingaggiare operai per la sua vigna. Essendosi accordato con gli operai per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito verso l'ora terza, trovò altri che stavano nella piazza inoperosi. Dice loro, andate anche voi nella mia vigna, e vi darò la giusta ricompensa. E si andarono. Di nuovo uscì verso l'ora sesta e l'ora nonna, e fece altrettanto. uscì anche verso l'ora un decima, e trovò altri che stavano là. Dice loro, perché state qui tutto il giorno inoperosi? Le rispondono, perché nessuno ci ha ingaggiati. Dice loro, andate anche voi nella vigna. Venuta la sera, il padrone della vigna dice al suo fattore, chiamagli gli operai, e da loro la mercede cominciando dagli ultimi fino ai primi. Vennero quelli dell'undecima, undecima ora, e ricevetero un denaro ciascuno. Quando giunsero i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma ricevetero anche sì un denaro ciascuno. Nel prenderlo, mormoravano contro il padre di famiglia, dicendo, questi ultimi hanno lavorato per un'ora sola, e tu li hai recuperati a noi, che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Egli rispose ad uno di loro, amico, non sono ingiusto con te. Non hai fatto il patto con me per un denaro? prendi ciò che è tuo e vattene. Voglio dare a quest'ultimo proprio quanto dato a te, che forse non mi è lecito disporre dei miei beni come voglio. E non sarà il tuo occhio che si fa cattivo dal momento che io sono buono. In questa maniera, gli ultimi saranno primi, e i primi saranno ultimi. Cari miei fratelli e sorelle, anche se stiamo attraversando un momento sconvolgente della pandemia, siamo veramente amati del Signore ad ascoltare la Sua voce, siamo veramente consolati del Signore a sentire la Sua vicinanza tramite la Sua parola. Oggi noi abbiamo proprio il contesto del regno di Dio per avere una meditazione. Ecco, infatti, il regno di Dio è il nucleo della proclamazione di Gesù. Così si trova al centro del Nuovo Testamento. Infatti, Gesù ha cominciato la sua vita pubblica annunciando il regno di Dio. Convertitevi, poiché è vicino il regno dei cieli. Matteo 4, versetto 17. Gesù probabilmente non parlava niente che non è legato al concetto del regno di Dio. Tutti i suoi discorsi vengono collegati intimamente con il concetto del regno di Dio. Infatti, quando Gesù parlava del seminatore, della zizzania, del chicco di senapa, del lievito, del tesoro nascosto, della rete, della perla preziosa. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, Gesù parlava continuamente del concetto del regno di Dio. Infatti, c'è un libro famoso in inglese che si chiama Heart of Christianity, Rediscovering a Life of Faith da Marcus G. Borg. Il trattamento principale di questo libro è sul concetto del regno di Dio. Infatti, ecco, Heart of Christianity vuol dire il cuore del cristianesimo e il trattamento del regno di Dio. In realtà, cosa significherebbe il regno di Dio? Probabilmente è un concetto che noi abbiamo sentito tantissime volte fin dall'inizio della nostra vita cristiana. Cosa significherebbe giustamente il concetto del regno di Dio? E' un concetto che occupa qualche spazio geografico? E' un concetto che occuperebbe qualche concetto astratto? In realtà, no. Matteo ha un tentativo grande a identificare il regno di Dio con la persona di Gesù. Quindi per lui, per Matteo, il regno di Dio vuol dire la persona di Gesù. Uno che sta cercando di entrare nel regno di Dio vuol dire uno che sta cercando di creare un rapporto intimo con la persona di Gesù. Quindi vuol dire, entrare nel regno di Dio vuol dire ad avere una sequela ardente di Gesù oppure di essere un discepolo fedele di Gesù. Quindi, carissimi fratelli e sorelle, quando siamo entrati, quando siamo invitati a pensare e a meditare della realtà del regno di Dio, Ecco, questo sia giustamente un viaggio che noi intraprendiamo tramite la persona e l'attività di Gesù Nazareno. Ecco, infatti, Luca mette in rilievo il luogo specifico dell'incontro tra Gesù e il suo discepolo. Cioè, il cuore proprio. Nel Vangelo di Luca, capitolo 17, versetto 21, La traduzione è, il regno di Dio è in mezzo a voi. Però, probabilmente, diciamo molto letteralmente, questa traduzione può essere il regno di Dio dentro di voi. Dentro di voi. Quindi, ognuno di noi, noi abbiamo veramente la presenza del regno di Dio. Uno che va in cerca del regno di Dio. Ultimamente si torna dentro di sé a trovare, a sperimentare la presenza del regno di Dio che si trova rivelato nella sua vita. Quindi, carissimi fratelli e sorelle, in questo viaggio che noi intraprendiamo tramite questo discorso del regno di Dio, fa parte della nostra vita. Il concetto concreto che abbiamo ascoltato oggi, secondo il racconto di Matteo, capitolo 20, cioè gli operai nella vigna. Matteo sta cercando a rispondere a qualche tensione che si trovava, che si emerge proprio nel contesto della Chiesa Primitiva. Matteo cercava di rispondere a alcune domande. Prima di tutto, diciamo, la parabola è la risposta a una crisi che esisteva nella Chiesa Primitiva. La comunità di Matteo era la comunità giudeo-cristiana. Quindi c'era una tensione tra questi fedeli giudei cristiani e i pagani che vengono battezzati. Quali avranno il vantaggio? Quali avranno la precedenza nel regno di Dio? I giudei cristiani che erano stati già battezzati o i neobattezzati che vengono dal mondo del paganismo? Ecco, quindi, il punto importante qua. Matteo sta rispondendo a questa tensione che si è emersa nel contesto della Chiesa Primitiva. L'altro contesto, l'altra crisi, tra i credenti che erano già battezzati e i neobattezzati, chi ha la precedenza? I fedeli che erano già battezzati o i neobattezzati? L'altra crisi che la comunità di Matteo affrontava è questa, cioè, la crisi tra i neonati morti e i fedeli che avevano la vita ecclesiale per tanti anni. Chi ha la precedenza qua? I neonati morti o i fedeli che hanno vissuto tanti anni servendo la Chiesa, facevano parte del corpo ecclesiale, rendevano servizio, molto volontariamente, vivevano, conducevano una vita lucida, testimoniando la fede. Chi ha la precedenza? Questi neonati morti o i fedeli che hanno vissuto tanti anni? Ecco, queste sono alcune domande che spingevano veramente per una risposta. Allo stesso tempo, la Chiesa Primitiva, tramite un'interpretazione sbagliata di questa parabola, ha creato un'attenzione ancora in un'altra dimensione. Cioè, alcuni sono entrati nel primo momento nella vigna a lavorare, ma gli altri dovevano aspettare fino all'ultimo momento. Ecco, la questione qua, non è importante di avere la conversione immediata, subito, basta aspettare fino all'ultimo momento. Quindi, tra i fedeli pure c'era questo motivo di prolungare veramente il gesto, il momento della conversione fino all'ultimo momento. Questo era stato veramente un atteggiamento sbagliato, al contrario dell'atteggiamento della Chiesa, dell'atteggiamento del concetto evangelico. Quindi, San Matteo cerca di rispondere, cerca di risolvere questa crisi tramite questa parabola che lui ci sta presentando. La pericopia degli operai della vigna è inserita tra due cornici. Prima della parabola e dopo la parabola. Infatti, nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, l'ultimo versetto è così, cioè 19-30, molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Dopo di quello inizia il capitolo, il prossimo capitolo, cioè capitolo numero 20. Dopo la conclusione della parabola del Vangelo, parabola dell'opera e della vigna, l'ultima frase che conclude la parabola è questa, cioè 20-16. In questa maniera, gli ultimi saranno primi e i primi saranno ultimi. Gesù recitava un vecchio adagio che era indiffuso tra la gente. Tutti i tre Vangeli sinutici citano lo stesso versetto nei contesti diversi. Infatti, Marco capitolo 10, 31 e Matteo capitolo 19, 30 più o meno hanno lo stesso contesto. Cioè, il contesto del discorso del discepolato. Dove si trova veramente il ricco, giovane, il giovane e ricco che vuole seguire Gesù. Viene scoraggiato tanto a motivo della sua ricchezza. Subito, San Pietro interviene con la domanda della ricompensa dei discepoli. Allora, Pietro le rispose Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e abbiamo seguito che cosa dunque ne avremo. Gesù le risponde In verità, in verità, io vi dico voi che mi avete seguito quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, voi sederete su dieci troni giudicando i dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case padre, madre, fratelli, sorelle, la moglie, i figli, il campo, per il mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Poi si conclude questa parte, molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Ecco, Gesù parla questi versetti ai suoi discepoli significherebbe anche se i discepoli hanno lasciato tutto per seguire Gesù, la loro entrata nel discepolato di Gesù non è assicurata. L'associazione della nostra attività quotidiana con la missione di Gesù non basterebbe a meritare il rapporto con Gesù. Spesso siamo tendati a pensare di essere vantaggiosi nel procurare il rapporto con Gesù. Il digiuno, preghiera penitenziale, puri sacrifici spirituali che noi facciamo forse quotidianamente non possono garantirci un posto sicuro nella vigna del Signore. forse tanti di noi stiamo pregando, stiamo seguendo Gesù, però il Vangelo di Matteo ci assicurebbe veramente un punto molto importante. Se voi fate tutte queste cose per il mio nome, voi avrete il cento e voi avrete l'erdita in eterna. ecco, quindi vuol dire per il mio, per il nome di Gesù è un punto molto importante in questa fase della nostra meditazione. Forse nel contesto del Vangelo oppure ci siano tanti che seguono Gesù cercano Gesù per diversi motivi. Vediamo nel Vangelo di Giovanni capitolo 6 ci sono Giovanni capitolo 6 a Caffarnavo in cerca di Gesù perché il giorno precedente c'era la moltiplicazione dei pani. Il giorno seguente la gente sta cercando Gesù per avere un po' di pane. Giovanni capitolo 7 versetto 11 gli ebrei stanno cercando Gesù ad eliminarlo dove lui nell'occasione della festa a Gerusalemme. Ecco, questi sono alcuni tentativi in cui Gesù viene cercato però loro cercano Gesù per loro vantaggi. Però allo stesso tempo ci sono gli episodi in cui Gesù viene cercato per Gesù stesso per Gesù stesso per lui stesso quale sia il significato? Luca capitolo 8 versetto 9 dove Maria è madre di Gesù e i suoi fratelli vengono da lui in cerca di lui. Di nuovo vediamo Giovanni capitolo 20 versetto 15 Maria di Magdala dopo l'episodio della sofferenza e la morte di Gesù viene in cerca delle persone di Gesù nel sepolcro. Uno che viene nel sepolcro vuol dire non aveva nessuna intenzione di guadagnare un vantaggio viene puramente con il motivo dell'amore Gesù viene cercato per lui per lui stesso per avere la sua persona non per niente nè un altro motivo personale egoistico ecco questa ricerca può darci veramente la luce vedete nel libro di Daniele capitolo 3 versetti 17 e 18 dove si trova l'episodio clamoroso della sofferenza di tre ragazzi nel fuoco e quelloro davanti a Nebuchadnezzar loro dicevano o re il nostro Dio è forte sufficiente a liberarci dalla fiamma di fuoco dalla fornace di fuoco dalla fornace di fuoco anche se anche se lui non ci liberasse noi non serviremo i tuoi dei e noi non adoreremo la statua di oro che tu hai eretto questa diciamo l'adorazione questa diciamo la fede ardente uno che sta pregando il Signore uno che sta cercando Dio senza nessun motivo solo per il motivo della persona del Signore quindi carissimi fratelli e sorelle in questa prima fase della meditazione cerchiamo di andare dentro di noi stessi e vediamo la realtà della nostra ricerca del Signore quale sia il motivo della preghiera quale sia il motivo della nostra ricerca quale sia il motivo del nostro sacrificio per avere qualche soddisfazione per avere qualche vantaggio del Signore oppure ad avere la persona del Signore rivelata nella nostra vita ci fermiamo qua la prima meditazione grazie che tante